pasta sfoglia ma è molto buona e costa niente un po' facile da fare la puoi usare sempre le torte salate che è per... ciao 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 ma Riki ma invece ieri sera ho letto un po' la tua tesi è bellissima come l'hai? Ah, ce l'hai di là? mhm ma sembra che la vanno via meglio certo, è interessantissimo cioè non sembra una tesi da quanto è f***a ehm, è ricordato sì, devo smettere di mangiare il bocchiorno però sono bollissimi, non ce ne fatti dai, per un danno sai che non avanza tanto no, non avanza tanto anche non avanza tanto grazie 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 grazie